Un presidente forte, carismatico, spesso burbero, probabilmente il più amato. Sandro Bertini non è stato soltanto il partigiano presidente cantato da Totto Cotugno, non è stato soltanto il presidente tifoso che esultava dagli spalti dello stadio di Madrid l'11 di 1982 quando l'Italia vinceva i mondiali. Non è stato neanche forse il più iconico e più noto dei presidenti della Repubblica, è stato anche un uomo coraggioso e carico di cicatrici che ha fatto la storia di questo paese prima ancora di diventarne presidente. È stato anche un presidente moderno e riformista, con lui sono stati nominati il primo premier non-dimocristiano del dopoguerra, il repubblicano Spadolini, il primo premier socialista Bettino Craxi. È stato anche il primo presidente della Repubblica che è uscito dalle aule affrescate del coordinale per partecipare attivamente alla vita politica, sociale ed etica del paese. Ecco, se c'è un momento in cui in Italia il presidente della Repubblica ha smesso di essere soltanto un vessillo o una bandiera ma ha cominciato ad essere un protagonista della vita politica del paese, quello è stato durante il settennato di Bertini. È il 27.